Javi Zanetti intanto grazie per l'accoglienza siamo in una sala che lei ha contribuito ad arricchire con questi trofei cinque scudetti su 19 quattro coppa italia su 9 una coppa uefa mondiale per club soprattutto la vediamo la proprio in cima alla champions è alzata nel 2010 e la terza della storia dell'inter quasi la metà dei successi porta anche la sua firma sì diciamo che siamo in una sala che che mi porta grandi ricordi e trasmette grandi emozioni aver contribuito insieme ai miei compagni a tanti successi e rimanere nella storia di questo club per me è stato sempre una cosa molto importante è il giocatore che ha vinto di più con la maglia dell'inter e questo è una cosa che mi riempie d'orgoglio perché praticamente da quando sono arrivato dall'argentina ho fatto tutta la mia carriera indossando un'unica maglia che quella dell'inter e questo me lo porterò sempre dentro che poi era arrivato come controfigura di un altro acquisto rambert in realtà siamo arrivati con il mio connazionale rambert mio amico che lui era giustamente quello più conosciuto capo canoniere del calcio argentino di una squadra importante come l'indipendente io arrivavo come quarto straniero all'epoca potevano giocare soltanto tre però il destino ha voluto che che io feci una una carriera che dal 95 mi vede come come protagonista con un percorso all'inter lineare prima capitano poi uomo di rappresentanza del club oggi con un ruolo dirigenziale sì diciamo che divido il mio mio status nell'inter in due etappe quella come calciatore molto importante e altrettanto affascinante quella da vicepresidente perché mi sono dovuto preparare sono dovuto studiare perché ritengo che essere vicepresidente dell'inter richiede una grande responsabilità non soltanto sulla parte sportiva sino anche su altre aree del club che insieme devono crescere io mi rendo utile anche in questa maniera però essere stato capitano di questa squadra essere il più vincente della storia aiuta ad avere autorevolezza poi nel rapporto con gli altri la gente riconosce in cavie zanetti qualcuno di importante al di là del percorso fatto poi anche a livello dirigenziale si diciamo che vengo vissuto come un referente importante conoscendo la storia del club quali sono i suoi valori sul dna dna quando parlo anche con i ragazzi con il mister diciamo che siamo un bel gruppo di lavoro che ognuno contribuisce per il bene di questo club e soprattutto in campo no ho lasciato il segno immagino che oggi sia abbastanza facile per chi si avvicina a via zanetti riconoscere la correttezza sempre esemplare il comportamento tenuto e può essere anche un esempio una cosa che che ci ho tenuto sempre la correttezza la lealtà il rispetto non soltanto per i miei compagni per gli avversari che uno affronta io dico che uno quando fa il nostro mestiere il calcio c'è una dimensione grandissima i tanti bambini ci prendono come sempre allora dobbiamo stare molto attenti ai comportamenti non soltanto in campo sino anche fuori infatti ogni volta che c'è un trofeo fair play che viene messo in paglio appare anche il nome di cavie zanetti questo mi fa un grande piacere perché viene riconosciuta anche la mia lealtà non soltanto in campo sino anche fuori ricevere dei premi e delle testimonianze di affetto in questo senso qui sicuramente è di grande orgoglio lei ha detto che senza il calcio probabilmente avrebbe fatto il muratore come suo padre che assieme altri genitori creò il campetto di erba e sabbia per farvi giocare da bambini è solo una leggenda o è davvero è andata così è stato un momento importante la mia vita poter aiutare il mio padre nel suo mestiere che era muratore un mestiere molto faticoso da lì credo che ho imparato tantissime cose che che mi hanno servito durante la mia carriera come calciatore e mi continuano ad accompagnare adesso come come dirigente mettiamola un po sulla metafora il muro alla fine l'ha alzato comunque come difensore sì 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 cercavamo sempre di alzare il muro il più alto possibile così non ci facevano tanti gol e in fondo una volta al calciatore si diceva investi nel mattone perché l'immobiliare è sempre un settore che io vengo io vengo di quella cultura lì mi ricordo mi inizi in argentina la prima cosa che che mi hanno detto ok ti compri la macchina però compatte anche anche un appartamento una casa che che vedrai che che ti aiuterà nel futuro e invece poi invece di occuparsi di immobili ha scelto di occuparsi di ristoranti sì ho cercato di portare la nostra tradizione argentina qui qui a milano una città che ormai è internazionale e poter far gustare la nostra carne di sicuro per me è un grandissimo piacere per tutti gli italiani torno ai ristoranti perché pur essendo di impronta argentina alla fine lei ha voluto inserire nella carta il risotto alla pupi che il classico risotto milanese pupi dal suo soprano sì perché ho voluto non soltanto portare la tradizione argentina della carne sino uno dei miei piatti preferiti da quando sono arrivato qui in italia che il risotto alla milanese allora aveva messo quel nome lì per per ricordare la mia fondazione pupi e il piatto che che mi piace tantissimo ecco da dove viene il soprannome pupi è un soprannome che aveva mio fratello che poi coincide con un allenatore che abbiamo avuto insieme allora questo allenatore mi dicevi a chiamare pupi a me e poi gli ho messo questo soprannome anche alla mia fondazione pupi senta anche il papa è argentino ed è un grande appassionato di calcio vi siete incontrati non moltissimo tempo fa come è stato questo incontro ci siamo incontrati tante volte però mi rimane in mente il primo incontro un incontro molto piacevole con la mia famiglia dove il papa grande appassionato di calcio tifoso del san lorenzo mi raccontava la formazione a memoria di quando lui era giovane seguiva questa squadra qui e poi abbiamo parlato anche del nostro paese di quello che io facevo con la mia fondazione da lì è nata l'idea di fare la partita inter religiosa a roma che abbiamo fatto nel 2014 che è stato un grandissimo successo è sinceramente stato veramente un momento emozionante uno dei più importanti nella mia vita l'argentino vince il mondiale e javier zanetti posta una foto dove alza i capelli creando una cresta è la cosa più trasgressiva fatta in tutta la vita diciamo che prima della finale mi hanno mi avevano invitato a una trasmissione della nazionale e ognuno doveva fare una promessa dove vinciamo il mondiale io per una volta mi vedrete con un'altra pettinatura io ho dovuto compiere però con grandissima felicità perché aver vissuto il mondiale da vicino con tutti i ragazzi e provare quella emozione lì stata una una cosa unica e c'è un'altra cosa particolare javier zanetti non ha tatuaggi però centinaia centinaia di persone hanno tatuato sul proprio corpo per sempre un simbolo che sia la maglia che sia il volto che si fa un grandissimo effetto perché mi ha capitato recentemente di andare a una festa un inter club e tanti ragazzi che chiedevano la firma sul braccio per per tatuarsi il giorno dopo e dopo mi arrivano su instagram che se sono tatuati veramente e fa un certo effetto capito mi emoziona perché persone che dimostrano di avere un legato molto forte con un legame molto forte con me con con l'inter e che rimarrà per sempre hanno ritirato recentemente la numero 4 dell'inter e c'è solo un altro numero che all'inter nessuno può più indossare il 3 ed è giacinto facchetti ed è la storia dell'inter delle prime grandi affermazioni delle prime coppe vinte siete un po il linea di contatto tra l'inter del passato e l'inter del presente diciamo che aver conosciuto giacinto per me è stata una cosa molto bella una persona straordinaria che quando lo vedevamo ad a piano gentile già la sua presenza ti faceva respirare la storia dell'inter le tante chiacchiere che avevamo fatto sul suo percorso nell'inter su cosa vuol dire indossare la maglia dell'inter la faccia del capitano per me è stato e sarà sempre un referente molto importante vent'anni fa mese più mese meno indossò per la prima volta la fascia di capitano dell'argentina è l'unico rimpianto che può esserci come calciatore il fatto di non essere mai riuscito a vincere qualcosa con la rappresentativa del suo paese sì però diciamo che per la mia nazionale ho dato tutto poi ci sono dei momenti purtroppo non abbiamo coronato dei successi importanti però c'è il fatto di indossare la maglia dell'argentina nel mio paese e difenderla in qualsiasi parte del mondo per me è quello che c'è una grande vittoria allora rimane l'onore l'orgoglio di vestire la maglia del mio paese per tanti anni per tante partite in tutto il mondo con la fascia da capitano tantissime volte c'è un altro capitano che è riuscito a colmare questo vuoto ed è leo messi leo messi che lei poi anche cercato credo di convincere in passato a venire all'inter alla fine all'inter ci è andato ma l'inter sbagliata quella di Miami no diciamo che il rapporto che c'è con leo messi è un rapporto molto bello perché ci siamo conosciuti quando lui iniziava i suoi primi passi nella nazionale e già lì si vedeva questo fenomeno un ragazzo straordinario che dentro del campo ormai ci sorprende sempre di più la cosa più bella che che argentino e che lui è riuscito a vincere questo mondiale che inseguiva da tantissimo tempo ma quante m ci sono nella sua vita moratti moratti è come il mio papà perché lui mi ha portato all'inter quando io parlavo prima ero uno sconosciuto è creduto in me ha avuto fiducia subito in che io potevo fare un grandissimo percorso in questa società allora le ringrazierò per sempre a lui e alla sua famiglia murigno giossè giossè il nostro condottiere in quei due anni lì abbiamo fatto delle cose straordinarie e abbiamo scritto delle pagine importantissime per questo club ce ne sono tante altre mancini materazzi adesso martinez lautaro c'è l'altra bandiera a milano che ha accompagnato la sua carriera a maldini poi c'è una m che abbiamo sempre pensato potesse essere l'idolo di javi e campione maradona e poi c'è quell'episodio del 2010 quando maradona commissario tecnico non convoca zanetti per i mondiali si è rotta quell'idea di maradona come no bisogna distinguere entrambi le cose diego per per tutti i l'argentini è diventato una fonte di ispirazione per tutti quelli chiamiamo il calcio lui mi ha portato in nazionale c'è il ramarico non essere andato a quello a quel mondiale lì dove io praticamente avevo fatto tutte le qualificazioni però va bene sono scelte sono cose che il calcio insegna bisogna prendere accettare e andare avanti non c'è nessun ramarico o nessun rancore nei confronti del grande diego allora passo la s la s di sergio o serchio come dite in argentina suo fratello che qualche mese fa ha salvato il belinzona in challenge league sì 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 sono contento per il percorso anche del mio fratello perché è riuscito a salvare il belinzona io so quanto lui ci tiene al suo lavoro quanto è appassionato e sicuramente è stato un bellissimo successo per per la sua carriera e poi quando giocava belinzona locale non capitava anche qualche volta di vedere il tribuna al comunale quando quando potevo andavo a vedere le partite perché mi piaceva vedere le sue partite con l'inter poi che è venuto spesso a lugano anche in ritiro a giocare le amichevoli allora viviamo il traso vicino a como qual è il legame con la svizzera italiana col canton ticino no c'è un bel legame c'è un bel legame perché ci capita spesso anche soprattutto nel periodo invernale di andare a fare delle passeggiate in montagna san bernardino c'è a lugano vengo spesso diciamo che sendo così vicini è facile venire e apprezzare anche i bei e paesaggi che già che c'è la svizzera 50 anni un traguardo simbolico traguardo simbolico 50 anni vissuti in maniera con grandissima felicità intorno a delle persone che che ci tengo e speriamo di poterci godere anche questo momento e allora cominciamo dalla cosa bella indimenticabile di questi 50 anni per quanto riguarda la mia carriera sportiva sicuramente la notte di madrid perché lì come hanno messo i nostri tifosi nella tribuna del bernabéu abbiamo coronato un sogno il fatto di essere capitano alzare quei trofeo lì per riportare quella coppa lì a milano per me sarà sempre un momento indimenticabile invece a livello umano a livello umano la nascita dei miei tre bambini credo che quei sono momenti molto forti che te rimangono sempre e che c'è che c'è grande amore per tutti i tre e allora non le chiedo qual è invece il rimpianto perché finiamo talmente bene che sarebbe un peccato in malinconizia rimpianto guarda quando uno vive la vita dando tutto di sé ci sono pochi rimpianti auguri grazie mille